Nome? Claudio. Cognome? Ruperto. Ruolo? In questo settore giovanile? Istruttore della Beretti. Il tuo obiettivo in questo settore giovanile? È di far crescere i ragazzi per cercare di farli arrivare pronti alla prima squadra. La differenza nel lavorare con i ragazzi o con una squadra già affermata di professionisti? Sicuramente sono i punti in palio. Qui dobbiamo puntare soprattutto alla loro crescita, alle prime squadre. È necessario fare dei punti, quindi c'è più tensione, c'è più voglia di confrontarsi con gli altri allenatori. È più facile essere giocatore o allenatore? Giocatore sicuramente.